. GF Vip, Daniele racconta le sue paure, avevo il ribrezzo di Mevin Zuiden. Bossari si apre e parla della depressione che lo ha colpito negli ultimi tempi, l1-4 esperienza nella casa lo sta aiutando. . Al grande fratello Vip è arrivato il momento di aprirsi per Daniele Bossari. Il conduttore si racconta a cuore aperto e confessa lati di sé che nessuno conosce. Racconta un momento particolarmente buio, che ha attraversato e che non ha ancora superato del tutto, mi guardavo allo specchio e avevo il ribrezzo di me stesso, non rispondevo a nessuno, non volevo uscire di casa. . Lavoravo ma non mi riguardavo mai, prosegue Bossari, sono andato dallo psicologo, ma il percorso è ancora lungo. La mente ti blocca completamente. . L'esperienza nella casa del grande fratello gli è servita proprio per superare questi ostacoli, ho accettato di partecipare a reality per superare le mie paure, angosce e tormenti, tutte le mie fragilità. . E in effetti così è stato, Daniele oggi si sente diverso, pronto ad affrontare un nuovo percorso, prima ero incupito, come se avessi un velo. Ero proprio chiuso, leggevo soltanto. . . Il mio sogno era vivere in una torre senza nessuno perché stavo male dentro. . . . . . . . .